La comunicazione di Giuseppe Conte e Beppe Grillo ha un problema, le negazioni. Ve ne ho parlato già più volte a proposito di Giuseppe Conte, per esempio per quanto riguarda la frase questo governo non lavora col favore delle tenebre, 10 novembre 2020. Oppure ancora, sempre Giuseppe Conte, rifonderemo il Movimento 5 Stelle, non sarà un'operazione di marketing, 2 aprile 2021. Oppure ancora, non siamo qui per una passerella, Giuseppe Conte all'inaugurazione del MOSE di Venezia, 10 luglio 2020 e la lista potrebbe continuare. È un tema importante questo, fateci caso. Più volte le affermazioni di Giuseppe Conte contengono quantità di negazioni importanti e come ho spesso sottolineato in questi anni, il problema della negazione è che rischia di attivare nell'ascoltatore l'immagine mentale opposta rispetto a quella che il comunicatore vorrebbe. Non sei qui per fare una passerella? Non ci avevo pensato come ascoltatore, ma adesso che me lo stai dicendo tu, mi dai un'occasione per rifletterci. Questo è l'effetto che il comunicatore, dal mio punto di vista, rischia. Si tratta di una modalità che è proseguita, questa delle negazioni, anche in questi giorni di scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte e partiamo proprio dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte dell'altro ieri. A Beppe dico che non ne faccio una questione personale. Ancora, non è certo una battuta irriverente o sgradevole che mi preoccupa. Non mi accontenterò di una risicata maggioranza, mi metto in discussione. Ecco, ieri è arrivata poi la risposta di Beppe Grillo sul suo blog. Cosa ha scritto Beppe Grillo? Conte non ha esperienza di organizzazioni né capacità di innovazione. E ancora, non ha visione politica né capacità manageriali. Non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Ora, il punto, terminata questa citazione, cari amici, è questo. Quanto siamo ancora capaci nella nostra comunicazione di comunicare ciò che le cose rappresentano per noi, ciò che le cose sono per noi, evitando di esplicitarle in forma negativa. Ricordiamo che la negazione nella lingua italiana svolge un ruolo importante che può essere talvolta anche valorizzato. Sapete che gira questa bufala già smentita scientificamente, secondo cui il cervello non capirebbe le negazioni, ma se così fosse non capiremmo nemmeno questa stessa frase. Il punto è continuare o meno a utilizzare le negazioni in maniera così intensa, col rischio di comunicare troppe volte altro rispetto a ciò che davvero vorremmo. Ecco, ogni volta che usiamo una negazione, esponiamo il pubblico a una necessità di decodifica. Tu mi dici come non stanno le cose, io devo decodificare il messaggio al contrario per capire come stanno effettivamente. È uno sforzo che tu come comunicatore chiedi a me come ascoltatore. E nell'era dell'attenzione contesa questa è una richiesta tutt'altro che semplice da fare a chi ci ascolta. La mia domanda quindi è, si può fare di meglio in comunicazione? Secondo me sì.